Presidente, la Sardegna rispinge con decisione la definizione circolata in queste ore di isola cluster? Assolutamente, la Sardegna non ha mai avuto una circolazione virale autoctona, tutti i casi registrati sono di importazione o di ritorno di persone che provengono da zone nelle quali ci sono focolai attivi, ben noti e riconosciuti. I Sardi hanno fatto grandi sacrifici per preservare l'immunità virale di quest'isola, avevamo raggiunto una condizione pari a zero, ora la ripresa di questi contagi è dovuta alla circolazione senza controlli che purtroppo è stata adottata come modello da parte del governo nonostante noi avessimo proposto una soluzione completamente diversa. Tre mesi fa e anche più di tre mesi fa lei propose quello che fu definito un passaporto sanitario che in realtà era semplicemente un test all'ingresso che attestasse la negatività al virus, ci furono opposizioni di tipo politico, di tipo scientifico, di tipo giornalistico e mediatico, oggi invece quel governo che respinse quella proposta sembra proprio insieme anche ad altre regioni andare in quella direzione, facile dire l'avevo detto. Ma noi non siamo alla ricerca di una ragione postuma, quel che possiamo osservare è che ci fu allora una strumentalizzazione violenta di questa proposta che delineava un modello che si innestava sul solco internazionale di esperienze come quelle della Corea del Sud o dell'Indonesia che avevano già avuto un secondo lockdown. Chiedere cioè ai passeggeri di poter presentare assieme alla carta d'imbarco un certificato attestante che si era tenuto un test che aveva dato esito negativo significava e significa evitare che il virus torni a circolare, che ci sia una recrudescenza. Era una proposta di buonsenso che abbiamo sostenuto con forza allora e che ripetiamo anche oggi che il governo ha mutato orientamento e sta adottando un modello simile per quanto riguarda i passeggeri di rientro da Spagna, Croazia, Malta. Il tema però non è effettuare i test negli aeroporti e nei porti dove è sicuramente difficoltoso, quanto piuttosto chiedere ai passeggeri di presentarsi all'imbarco già col risultato del test effettuato. In queste ore è circolata anche una voce, diciamo un'ipotesi o probabilmente un'indiscrezione che riguarderebbe una sorta di lockdown per la Sardegna? Ma credo che sia una butade priva di qualsiasi fondamento, se ci fosse verità anche minima in un'affermazione di questo tipo saremo all'assurdo. La Sardegna che è riuscita ad avere la più bassa circolazione virale d'Italia e che ancora oggi nonostante i casi di importazione continuano a non essere tra le prime 5, 6, 7, 8 regioni che hanno circolazione di indici RT superiore a 1, sarebbe in questo modo chiusa e penalizzata con un attacco frontale al sistema economico produttivo e alla sua reputazione turistica. Su questo diciamo con forza che non accetteremo in nessuna sede un'impostazione di questo tipo e adotteremo tutte le misure necessarie per tutelare il nome della Sardegna e i sacrifici fatti dai Sardi. Presidente, la stagione turistica, una stagione turistica difficile, sofferta comunque prosegue, come portarla a compimento nel modo più soddisfacente per i turisti e anche per il tessuto economico sardo? Con estrema attenzione come c'è stata fino a questo momento da parte di tutti gli operatori e con la consapevolezza che anche se in una stagione di transizione, come abbiamo sempre detto, diversa da tutte le altre, i numeri stavano premiando la destinazione. Abbiamo raggiunto circa 7 milioni di presenze che sembrava un risultato impossibile. Se non ci fosse stato tutto questo battaggio mediatico e questa campagna che si sta facendo contro la Sardegna, contro il turismo in Sardegna, avremmo chiuso questa stagione sicuramente con numeri molto confortanti.